Ronaldo Shock, a Covid. Niente Brasile Serbia. Niente Brasile Serbia dal vivo per Ronaldo, inteso come Luis Nazario da Lima. Il fenomeno. Affermarlo è stato il Covid, a cui è risultato positivo nelle ultime ore e crono costretto all'isolamento nella propria stanza d'albergo a Doha. Ronaldo, il fenomeno, ai Covid, niente Brasile Serbia allo stadio lo ha fatto sapere lo stesso ex pallone d'oro sui social. Spiegando di essersi sottoposto ad apposito tampone dopo aver accusato sintomi con raffreddore già dalla notte. Ora rimarrà isolato per i prossimi cinque giorni nella camera d'albergo. L'ex Inter resterà in isolamento per cinque giorni in albergo a Doha. Ronaldo ha quindi aggiunto, comunque tutto bene, farò parte della torcida anche da qui. Il fenomeno, campione del mondo nel 1994 e nel 2002 è oggi 46enne, e in Qatar da invitato speciale della FIFA e domenica scorsa aveva assistito alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo e alla partita inaugurale Qatar-Equador. Terminata 2-0 per la formazione sudamericana. Virgola